video a 360 gradi esistono ormai da anni ma questa piccolina cambia tutto salve nuovo prodottino per noi più una serie di accessori che non so bene cosa c'è qua dentro in super mega anteprima insta 360 x4 8k 360 action cam un paio di anni fa se vi ricordate è uscita la x3 una bomba oggettivamente a livello di fotocamera 360 è veramente la migliore ecco questa si promette di essere ancora meglio e oltre a tutti gli utilizzi classici da social video e cose varie vista questa nuova spinta al mondo dei visori ci sono secondo me tante cose interessanti da dire da provare da testare con ordine partiamo ovviamente bella massiccia bella solida con questa finitura zigrinata plastichine ovviamente abbiamo lente di qua e lente dall'altra parte qua c'è la batteria usb c mentre qua come nella x3 abbiamo lo schermino con i due tasti tasti anche qua sul lato vi faccio notare subito la prima grande novità arriva a registrare fino all'8k a 30 fps mentre il 5.7k è a 60 fps c'è anche un case figo questo adesivi cose finalmente finalmente sono dei paralente in plastica perché uno dei problemi principali di una camera 360 è che avendo la lente sia di qua sia di là tu non sai mai come appoggiarla quindi si puoi usare il case o il coprilente però insomma sono abbastanza delicate queste lenti anche perché sono proprio fisheye sporgenti questa per farvi capire la mia x3 che ho usato in lungo e in largo come vedete le dimensioni in realtà sono simili questa qua più nuova è un pochino più alta è un pochino meno larga diciamo però siamo lì insomma tutto questo per dirvi che vedete sull'x3 qua io ho fatto un piccolo segno che mi dà un sacco di fastidio ecco finalmente hanno studiato questi coprilente che si vanno semplicemente a mettere così così se si danneggia male che vada si cambia solo il coprilente poi vabbè questo qua coprilente classico indispensabile per quanto mi riguarda per quando la si porta in giro questo oh no un lightning no io non lo voglio più vedere premium lens guards uhlala che cosa c'hanno di premium sono fatti in vetro temperato anziché in plastica quindi dovrebbero essere più resistenti e più trasparenti devo dire non male questo è il classico selfie stick questo è d'obbligo con una camera 360 la cosa bella è che anche in questo caso insta continua sempre a migliorare io mi ricordo i primi che erano sì belli ma un pochettino così questo qua addirittura guardate è in carbonio super leggero super resistente wow poi bullet time bundle questo specifico per la modalità bullet che proviamo dopo praticamente attacchi un selfie stick a questo caso che gira e poi questa da spacconi ma è già il mio preferito anche qua abbiamo l'evoluzione del mega selfie stick in carbonio da tre metri questo è veramente pazzesco bene vediamo cosa in grado di fare ed eccoci subito nella natura con un bel setup da bici che adesso vi mostro in realtà è già qualche giorno che la sto testando me la sono portata in macchina a piedi in aereo praticamente ovunque e già vi dico che mi sono decisamente innamorato perché già l'x3 era molto interessante ma aveva comunque tutta una serie di compromessi questo x4 invece permette di fare qualsiasi cosa intanto comunque questo è il setup che ho messo in piedi super semplice questo nuovo bastone in carbonio è una bomba anche perché è leggerissimo abbiamo anzitutto la possibilità banalmente di tenerla vicino a noi in modo da poter magari riprendere quello che stiamo facendo ma riprendere comunque anche la strada all'occorrenza però ovviamente possiamo estendere metterla in alto metterla davanti e addirittura con questo simpatico snodo metterla lateralmente insomma già così capite che una sola videocamera può permettere di fare mille cose diverse quelle che state vedendo quindi sono immagini registrate in 8k in realtà state vedendo dei video in 4k che derivano appunto dalla registrazione a 360 gradi di lei ma la cosa è che appunto registrando in 8k ogni singola inquadratura che deriva appunto dal 360 può essere in 4k come vedete con un dettaglio veramente 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 interessante la forza generale di avere una videocamera 360 è proprio questa piazzarla in un punto strategico e poter avere sì la ripresa 360 che magari adesso con tutti i visori più l'apple vision pro inizia a essere interessante dopo proviamo a vedere un video qua dentro e ne parliamo meglio ma ad oggi per il 99 per cento delle persone per il 99 per cento degli utilizzi la forza appunto tutta la post produzione per dire l'ho usata in aereo l'ho piazzata sul parabrezza e li posso avere dalla stessa singola videocamera un'inquadratura che guarda me un'inquadratura che guarda gli strumenti un'inquadratura che guarda davanti un'inquadratura che guarda l'ala un'inquadratura che guarda dietro se vi siete persi qualcosa comunque sul mio canale personale è uscito il video dove vi racconto di tutta questa cosa qua del volo dove tra l'altro ho registrato un po di clip con lei qualcuna più vecchia invece con la x3 e si vede proprio la differenza e sempre se vi siete persi qualcosa vi ricordo che abbiamo aperto un nuovo canale dedicato solo al mondo del volo quindi se vi interessa tutta questa cosa qua di aerei cose che volano spazio si chiama volare ci trovate come volare.space sui vari social link qua sotto in descrizione che spettacolo milano davanti a noi san siro esattamente lì adesso sto zitto e rimango concentrato che dire non sarà bello quanto volare ma potersi rivedere in 360 con questa qualità spacca oltre ad avere una super stabilizzazione perché appunto registrano in 360 quando si prende una clip singola anche se il bastone per esempio va su giù su giù su giù questa cosa viene compensata e quindi si ha una clip stabile tutte queste cose si possono fare dal software sia computer sia applicazione si può poi cambiare il fov da una cosa più diretta verso di te a una cosa più ampia fino a qualcosa di ancora più estremo molto distorto ma anche molto scenico che ti fa effetto tiny planet diciamo a me personalmente non piace si fa un po l'effetto wow però insomma la distorsione quando si usano questi effetti è sempre tantissima ma per alcune cose è sicuramente interessante e poi la cosa bellissima è che dall'editor si possono mettere insieme tutte queste cose quindi fare delle transizioni che dal pianetino vengono verso di te che si spostano da qui a là da su a giù da destra a sinistra insomma questo per farvi una panoramica generale tutte cose che già si potevano fare con l'8k si possono fare decisamente meglio perché si ha molta più risoluzione tra l'altro per i più tecnici siamo in h265 quindi qualità dell'immagine ancora più superiore e la cosa bella è che ovviamente non sono file super leggeri ma da computer o ancora più comodo da telefono si riescono a processare senza problemi qua per esempio vedete un po di clip che ho registrato apriamo questa io posso vedere in maniera fluidissima un'anteprima che ovviamente non è in qualità massima vedete mi posso spostare senza nessun tipo di problema posso mettere i miei punti di azione cambiare mettere un altro punto cambiare zoomare mettere un altro punto tornare indietro mettere un altro punto vedete qua sopra sono in modalità quick adesso vedo un'anteprima poi quando esporto ovviamente esporto a qualità massima questo invece è l'analisi ai vi faccio vedere che figo praticamente analizza tutto il video e guardate che figo senza far niente in automatico mi ha già trovato lui i video selfie quindi quando ci sono io che vado in bici e la vista frontale in base al movimento in base a quando succedono cose quindi selezioni per esempio questa in più fa anche già una compilation con la musichetta carina vedete con le sue transizioni in automatico davanti dietro non ci fai ovviamente un film però da metterne le storie o su instagram o così spacca soprattutto perché veramente la colleghi al telefono e sporti e ci sei oltre al 360 però ci sono anche altre modalità secondo me a tratti anche più interessanti per alcune cose infatti se andiamo qua su obiettivo singolo si può o usarla come se fosse una normalissima action cam quindi sfruttando solamente una delle due lenti ma praticamente senza compromessi perché possiamo arrivare fino al 4k a 60 fps quindi diciamo lo standard di un action cam normale più che top direi questo appunto perché avendo più risoluzione si riesce a ottenere di più da ogni singola lente l'altra cosa decisamente più interessante però è la modalità selfie che personalmente trovo comodissima perché va a usare entrambe le lenti ma creando praticamente un cono ovviamente il bastone viene cancellato magicamente dal software e quindi tenendo il bastone in mano in ogni caso lei inquadra sempre costantemente te ma la cosa veramente wow è che guardate qua sul 2.7k abbiamo fino a 120 fps quindi ottima per fare degli slow motion adesso facciamo qualche test guardate qua che roba questi slow motion in modalità selfie a 120 fps permettono veramente di fare delle cose decisamente interessanti rallentando il video fino a 4 volte per tutte le scene più action per tutti gli sport per tutte le cose insomma con più movimenti più cose che succedono è veramente interessante veramente comodo anche in questo caso vedete dall'applicazione posso editare la clip senza nessun tipo di problema posso avere o la velocità normale oppure avere il mio super slow motion qua invece non siamo in modalità selfie ma siamo in 5.7k a 60 fps quindi si riesce comunque ad avere un bello slow motion tipo questo cioè guardate che roba mentre in 360 a 4k si riesce ad arrivare fino a 100 fps già che ci sono vi mostro un paio di altre cose dell'applicazione per esempio che vedete riconosce il soggetto e quindi possiamo fare il tracking automatico questo comodissimo per avere te costantemente sempre centrato qua sul centro come al solito posso vedere in tempo reale sempre costantemente quello che vede lei cambiare le modalità tutte le caratteristiche ma la cosa forse più interessante è qua su modifica in sostanza si ha un mini editor totalmente gratuito selezioni le clip che vuoi utilizzare tipo questa poi possiamo mettere che ne so questa 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 e in maniera super intuitiva posso editare il video vedete se sposto il giroscopio sposto l'inquadratura posso diminuire il fov aumentare il fov e questa a mano c'è poi tutta la cosa di auto edit sostanzialmente quello che avete visto prima ma fatto su più clip vediamo un po' cosa ci tira fuori questa intelligenza artificiale ah mi dice se voglio un video veloce o un video più lento dai più veloce ah carino qua tutto il tour di torino che ho fatto con il bastone girando per la città stesso discorso non ci tiri fuori un film però come vedete mette insieme le clip fa delle transizioni sentite mette anche lui la musichetta sotto che si può cambiare si possono cambiare tutti questi template e poi l'occorrenza vedete da qua posso modificare ogni singola clip che lui ha scelto in automatico figo tra l'altro quello che state vedendo qua è proprio il bullet time questa modalità dove fai girare la videocamera e poi appunto grazie allo slow motion ti tira fuori queste clip molto molto carine da usare appunto magari in un montaggio sui social insomma l'altra cosa molto utile e divertente è usarla sostanzialmente in alternativa a un drone in molti posti i droni non possono andare ecco che lei più il bastone lungo 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 diventa molto interessante e con un po' di fantasia si riescono a fare delle cose veramente carine molto molto sceniche e soprattutto che in nessun altro modo riusciresti a fare si possono poi fare timelapse in 11k timeshift in 8k quindi vai in giro con il tuo bel bastone e ti fai magari che ne so tutto il tour della città altra cosa comodissima è l'horizon lock quindi si può montare come si vuole ma essendo poi 360 l'orizzonte sarà sempre orizzontale dopodiché sempre parlando di intelligenza artificiale ci sono i controlli con le mani vi faccio vedere che fighi che sono super semplice palmo per avviare e interrompere la ripresa mentre segno della vittoria per fare una foto capite bene che se ho la videocamera là per dire non è che ogni volta devo avvicinare o allontanare basta semplicemente che faccio così tac e vedete ha iniziato a registrare non c'è trucco e non c'è inganno se invece faccio di nuovo così vedete lei ha stoppato la registrazione e la cosa magnifica è che questa cosa a differenza di un action cam che ha una sola lente funziona a 360 gradi quindi tu ovunque sei semplicemente facendo un gesto con la mano vedete adesso per esempio sta facendo la foto oltre le gesture abbiamo anche i classici controlli vocali purtroppo visto che ce l'hai in anteprima queste sono le uniche lingue che ci sono questi c'erano già e funzionano discretamente bene tipo start recording e voilà molto fighi molto comodi e tutto bellissimo infinite funzioni intelligenze artificiali tutto quello che volete però poi la cosa forse più importante è la batteria banalmente ecco la batteria di questo affare è praticamente infinita infatti rispetto alla precedente siamo al 67% in più con una registrazione fino a 135 minuti quindi più di due ore in 5.7k in 8k invece consuma più batteria ma neanche così tanta in più quando l'ho usata in volo io tra una cosa e l'altra ho fatto praticamente un'ora di registrazione e avevo ancora un 35% di batteria circa quindi come detto già la X3 era una bomba questa con tutte queste aggiunte tutte queste modifiche tutte queste migliorie è veramente il giusto compromesso per tutto quindi se siete sportivi e volete una cosa con cui poter fare cose varie sbizzarrirvi avere varie inquadrature possibilità fare qualcosa di diverso con una sola cosa che ti fa sia ad action cam sia in parte da drone sia tutta una serie di effetti fighi senza neanche avere troppi sbattimenti di metterla nel posto giusto per avere l'inquadratura giusta perché dove la metti registra ovunque ti scegli poi tu le cose migliori ok questa cosa è fighissima cioè sto vedendo me stesso che sto volando in base a dove guardo ovviamente io ho tutta la vista 360 ovviamente quello che starete vedendo voi non rende minimamente perché manca tutto quello che è l'effetto 360 pazzesco e qua l'8k fa veramente la differenza perché riesco a vedere veramente tutti i dettagli possibili e immaginabili wow forse non è una cosa interessante ora anche perché i visori non è che siano così usati però se verranno effettivamente utilizzati in futuro avendo registrato cose in 360 poi anche cose registrate adesso tra 8 anni si potranno rivedere con il visore che non è male come cosa insomma trovo che sia veramente un gran prodottino sia per i meno esperti che vogliono un po' sperimentare e avere un qualcosa che possono usare letteralmente ovunque sia per i più pro per appunto riuscire a fare cose decisamente incredibili sicuramente sarà mia compagna di avventure quindi da Yaki e da questa Insta360 X4 era tutto ci vediamo prossimamente con prossime cose ciao 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 ciao